Oh mio Dio, Jumbo Josh, ho visto dalla finestra Bamban, mamma mia questa sarà una giornata terribile, sono sicura che mi bullizzerà come non mai, mi bullizza sempre, te l'ho già detto, un fa lo sapevo che non dovevo venire a scuola. Non ti preoccupare Opila, ci sono io, cercherò di fare il possibile per proteggerti. No fidati, se la prenderà anche con te, è un bambino cattivo, poi hai visto, lui è stato bocciato tante volte, quindi è il più grande della classe, è alto, cioè noi siamo piccoli indifesi. Lo so, fa tanta 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 paura anche a me, ma dobbiamo riuscire a fare qualcosa Opila, dobbiamo fare qualcosa, altrimenti lui si prenderà sempre gioco di noi. Ah 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 ah, oggi un altro giorno alla scuola dei mostri, ed oggi ho proprio voglia di bullizzare Opila Beards. Ah ah, ciao Opila Beards, uccellaccia brutta, ah vedo che ti sei fidanzata con Jumbo Josh, siete patetici, fate davvero davvero pena. Uffa bambanna, non ricominciare, ti prego, basta, lasciaci in pace, non ce la faccio più ad essere presa in giro da te, vengo a scuola per imparare e divertirmi, non per essere presa in giro. Sì, ha ragione, lascia stare Opila, basta, 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 ci stai traumatizzando, non riusciamo più a venire a scuola. Ah sì, ieri avete avuto il vostro giorno libero, oggi sono tornato alla scuola dei mostri e questo è soltanto l'inizio, ora vi sta salvando che sta arrivando la prof, ma ci vediamo dopo a ricreazione. Uffa Jumbo Josh, hai sentito cosa ha detto Bamban, ho troppa paura, io mi sa che rimango in classe, non andrò a fare ricreazione. Ho tanta paura anche io, è davvero grosso, è davvero grosso, chissà che cosa ci farà quando suonerà la campanella di ricreazione, ho tanta paura, tanta paura. Però non possiamo rimanere qui, in qualche modo dobbiamo affrontarlo, dobbiamo almeno provarci, oppure chiedere aiuto a qualcuno. Io lo sapevo che io non mi dovevo fidanzare con te, perché lui adesso prenderà in giro anche te e non voglio che succeda questo. No Opila, questo lo dobbiamo impedire, il nostro legame deve essere più forte di questo bullo, in qualche modo ce la faremo. Ecco, è arrivata la ricreazione Opila, ora vediamo quello che succederà. Ok Opila, ricreazione, ti va di giocare un po' a calcio? Sì certo, grazie che me l'hai chiesto Jumbo Josh, va bene, a me piace tanto giocare a calcio. E vai, allora facciamo che io mi metti in porta e tu fai un tiro? Sì, ok, ci provo. Vai Opila, sei bravissimo, sei bravissima. Vado eh, gol, ma sei bravissima Opila. Dovresti giocare al Barcellona in qualche squadra di mostri davvero forte, tu dovresti giocare con la serie A dei mostri, sei troppo brava Opila. Dai non esagerare. Giochi davvero davvero bene a calcio. Oh mio Dio Jumbo Josh, non girarti, non girarti. Perché? Che cosa sta succedendo Opila? Che cosa sta succedendo? Sta arrivando Pan Pan, ti prego non girarti Facciamo finta di essere due statue Ahah, eccomi qua Che cosa state facendo eh? State facendo le statuine ferme? Pensate che non lo capisco? Che siete due statue? Vedete se così vi faccio muovere Ahah Aia, ma che cattivo che sei Mi hai tirato la palla Non lo vedi? Il tuo ragazzo rimane immobile dalla paura Che uomo Non è capace neanche di proteggere la sua fidanzata Hai scelto proprio il ragazzo sbagliato Guarda No, aia, mi fai male Basta, sei una persona violenta Ahah, davvero pensi questo? Basta Pan Pan Basta di bullizzarci No, io vi schiaccerò Basta, basta Pan Pan Basta, basta, oh no c'è il muro Basta Pan Pan Ahah, siete arrivati al capolinea ragazzi Questa ora sarà la furia di Pan Pan Basta Pan Pan Ma non lo vedi? Che sei il doppio di noi E' facile prendersela con i più piccoli, vero? Basta Pan Pan Davvero mi sto arrabbiando Mi sto arrabbiando Eh, perché? Se no che cosa vorresti fare Jumbo Josh? Sei un microbo Pensi che ho paura di te? Prendi questa palla Ahah, questo è per te Ora basta Pan Pan Oh mio Dio Cosa ti succede Jumbo Josh? Ed ora Pan Pan Oddio Fermo, fermo Pan Pan Come hai fatto a diventare così grosso? Sei enorme Ora basta Mi hai stancato E mi sono arrabbiato Ora non te la prendi più Eh? Con quelli grossi Eh? Ora non lo fai più il grosso Ora ti piccherò No, no, no Jumbo Josh No, no Che cosa stai facendo? Sei lontano Opila Ora me la vedrò io Con questo Pan Pan Lo ridurrò in polteglia No, no, no Jumbo Josh Fidati Lascia perdere Tu sei buono Tu non sei così Tu sei una persona buona Lo sai Tutti i giorni ti bullizza E io sto lì a guardare Senza poter fare niente Oggi è il giorno Che io faccio qualcosa per te Opila Ora io sto diventando cattivo Sì, è vero Mi bullizza Ma noi non siamo così Noi siamo persone buone Se tu lo picchierai Diventerai come lui Non sarai più un buono Quindi che cosa dovrei fare Opila? Che cosa dobbiamo fare? Fidati di me La cosa migliore da fare In questi casi È parlarne con le persone adulte Quindi i nostri genitori E il preside della scuola E dici poi ci penseranno loro A questo individuo? Eh? Certo Certo che ci penseranno loro Loro ci difenderanno E lo faranno smettere Va bene Opila Lo faccio solo per te Perché ci tengo troppo al nostro legame Ah sì 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 Provate ancora a andare Dal preside dei vostri genitori E io vi bullizzerò ancora di più Non ci provate nemmeno Ad andare dal preside dei vostri genitori E invece sì che ci andremo Bamban Hai capito? Non ci fai paura Ci andremo Ci andremo e come E loro ci difenderanno C-c-c-come ci andrete? No Assolutamente no No se lo saprà mio padre Quello Che lo vive E mia madre Bambalina Mi faranno male Non ci provate ad andarci Potevi pensarci prima Ok? Potevi pensarci prima Di bullizzarci No vi prego Vi prego Non andate Non ditelo a nessuno Mi dispiace Mi dispiace No No Bamban Noi per sicurezza ci andremo Perché tu Per tanti anni Ti sei comportato così E non solo con noi Lo sai benissimo Anche con altri bambini E questo non è giusto Devono sapere Quello che hai fatto Poi Se ti comporterei meglio Ti prometto Che andremo Dai nostri genitori E dal preside E gli diremo Che tu ti stai comportando meglio Va bene Opila Hai ragione E questo È per tutti i polletti Quando avete bisogno Di aiuto Chiedete A chi può aiutarvi Come ad esempio Il preside Ma soprattutto I vostri genitori E non tenete nulla Dentro di voi Siate forti E non abbiate paura Di parlare Non abbiate paura Di parlare Anche se qualcuno Vi dice che voi Non dovete farlo Lo dovete fare Dovete parlarne Questa è stata La nostra avventura Su Roblox Se vi è piaciuta Polletti Lasciate un mi piace Ed iscrivetevi Al canale Dei Polli Ninja